Active Sport è pronto per il grande ritorno a Brescia del Camozzi Open 2022, il torneo internazionale di tennis in carrozzina. In programma al tennis Forza e Costanza 1911 di Via Signorini che si terrà da giovedì 9 a domenica 12 giugno e saranno ben 11 le nazioni rappresentate nei sei tabelloni. Allora oggi c'è la conferenza stampa di presentazione della nostra ottava edizione del torneo internazionale in memoria del Cavaliere Camozzi e quinta edizione appunto in memoria del Cavaliere. Qui presenteremo il nostro torneo e avremo poi come testimonial che ho appena incontrato Caraccio. Per noi è un onore avere persone che comunque sono conosciute nel mondo dello sport e che amano lo sport e sanno cosa vuol dire il sacrificio nello sport. Perché questo è anche per le persone che fanno uno sport in modo diverso, è comunque un sacrificio quando si arriva a certi livelli. Questo torneo consiste, allora è il torneo su sedia a rotelle a livello internazionale e suddiviso in tre tabelloni dove si confronteranno uomini e donne chiamati tabellone open che sono coloro che hanno una disabilità solo agli arti inferiori e poi c'è il tabellone maschile dei quad che sono le persone che hanno anche problemi agli arti superiori. Si suddivederà appunto in questi tre tabelloni. Si terrà allora ai campi del Forza e Costanza di Via Signorini a Brescia dal 9 al 12 di giugno. Fra gli atleti con lesioni e anche gli arti superiori, i favoriti della vigilia sono due bresciani di Active Sport, Alberto Sahia e Ivano Boriva. Active è un'associazione che nasce da persone con disabilità per aiutare persone con disabilità. Noi vediamo tutti i giorni tanti incidenti stradali e di quegli incidenti purtroppo alcune persone rimangono vittime di invalidità permanenti. Il nostro lavoro è quello di accompagnarli attraverso lo sport a recuperare un progetto di vita ma soprattutto aiutarli a capire che si può andare avanti. Quindi andare avanti si può. L'obiettivo con questo corneo è agonistico quindi il fatto che i nostri atleti che si allenano tutto l'anno al centro tennis Forza e Costanza con il maestro Paris e il suo staff possano arrivare a vincere ma soprattutto quello di diffondere una cultura dell'inclusione e del fatto che le persone anche davanti a un incidente non si arrendono. Come detto anche il nostro nuovo testimone è il Caracciolo che ringrazio di essere con noi. Nel momento in cui anche un ragazzino ha un dolore o un piccolo infortunio bisogna andare avanti. Allora noi abbiamo la presenza naturalmente sui social Facebook e Instagram come Acti Sport Disabili. Abbiamo il sito internet actisportdisabili.it e quindi siamo assolutamente rintracciabili via mail, via telefono e anzi abbiamo tante persone che durante l'anno ci chiedono di provare attività sportive perché una delle peculiarità della nostra associazione e soprattutto questo devo ringraziare gli imprenditori bresciani a partire dalla famiglia Camozzi è che abbiamo tante attrezzature che sono molto costose sia per il tennis che per l'hand bike dove noi le possiamo dare incomodato d'uso gratuito a queste persone perché parliamo di biciclette che vanno tranquillamente sopra i 10.000 euro e uno non si avvicina allo sport spendendo quella cifra. Quindi noi le possiamo far provare e poi nel caso quando si avvicina lo seguiamo nel percorso magari di professionalizzare ancora di più la sua attività. Però sicuramente abbiamo delle attrezzature di tutto rispetto per fare un primo approccio all'attività sportiva per persone con disabilità fisiche in particolare nell'hand bike e nel tennis. Naturalmente come dicevo prima ci riteniamo un soggetto culturale ma non solo quindi l'aspettacularità dello sport in sedia a rotelle e in particolare in questo caso del tennis vista dal vivo è veramente stupefacente tutte le persone che arrivano non pensano che si possa giocare così a tennis in sedia a rotelle e quindi vi invitiamo tutti dal 9 fino alle finali del 12 di domenica mattina a essere presenti in via Signorini presso il centro tennis a vedere queste partite dal vivo. Come da tradizione del torneo non mancheranno eventi collaterali in particolare appuntamento attesissimo sabato 11 giugno alle ore 16 quando il testimonial del torneo Andrea Caracciolo giocherà un doppio misto con normodotati e diversamente abili. Sicuramente è importantissimo perché è una realtà che magari non conosco e quindi essere qui in mezzo a loro e vedere il loro entusiasmo è sicuramente qualcosa di molto importante. Purtroppo farò delle grosse figuracce che il tennis ho provato a fare qualcosa, qualche lezione ma non sono proprio portato in più da due anni che non prendo in mano la racchetta ma sarà sicuramente motivo di divertimento.